Meglio così però non è facile, quando sei per tanto tempo fermo trovarti a giocare dall'oggi al domani devi far trovare pronto perché sei in una squadra che non ti può permettere di fare errori, anche piccoli errori purtroppo può capitare, questo è il mio ruolo, io cerco di farlo al meglio e credo di averlo fatto al meglio a quelle partite in cui sono stato chiamato in causa.